bello a tutti ragazzi sono Yuka e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su Clash Royale e oggi vi mostrerò tutte le leggendarie che ho trovato e dove le trovate purtroppo non sono riuscito a fare tutte le screen a tutte le leggendarie però la maggior parte ci sono riuscito adesso vi farò vedere prima lo screen originale di tutte le leggendarie che ho e poi passiamo a dove le trovate detto questo ci vediamo al prossimo video vi ricordo che al 10 like prossimo episodio e da Yuka è tutto ciao a tutti iscriviti al canale ciao